I verbi di accompagnamento, cioè studieremo in questo periodo, faremo gli esercizi, appliceremo le nostre conoscenze sui verbi che accompagnano un altro verbo, cioè che svolgono una funzione rispetto ad un altro verbo. Funzione di ausiliare, funzione di servile, funzione di frasiologico. Tanto per incominciare i verbi ausiliari sono il verbo essere e il verbo avere. Ad esempio, il verbo avere che si usa per tutti i tempi composti dei verbi di formativa. Ad esempio, io ho interrogato, tu avevi ascoltato, eccetera, eccetera. Il verbo essere che si usa in tutti i tempi composti dei verbi intransitivi. Quindi se sono transitivi hanno l'ausiliare avere. Se sono intransitivi hanno generalmente l'ausiliare essere. Esempio, sono tornato, era arrivato, eccetera. Gli intransitivi pronominali. Attenzione, ricordate gli intransitivi pronominali che abbiamo studiato per l'ultima verifica? Dimenticarsi, pentirsi. Hanno sempre il verbo essere come ausiliare. Mi sono dimenticato, si era pentito, eccetera. I verbi di forma riflessiva. Esempio, ci siamo pettinati. Oppure, si sono amati tanto. Poi, i verbi impersonali. Esempio, è accaduto. I verbi di forma impersonale. Si è parlato troppo. Si è discusso troppo di quell'argomento. E tutti i tempi della forma passiva. Quindi, i transitivi. Alla forma attiva hanno l'ausiliare avere. Alla forma passiva hanno l'ausiliare essere. Esempio, sei ammirato. Sei stata scelta. I verbi che possono essere sia transitivi sia intransitivi. Quindi, hanno l'ausiliare avere all'attivo. L'ausiliare essere nella forma passiva. Quando funzionano come verbi intransitivi, hanno sempre l'ausiliare essere. Per esempio, facciamo l'esempio del verbo avanzare. Hai avanzato una parte della tua porzione. Come vedete, ho utilizzato l'ausiliare avere. Perché qui, il verbo avanzare è usato in senso transitivo. Quando il verbo avanzare, invece, è usato in senso intransitivo, ha l'ausiliare essere. Esempio, l'esercito è avanzato. Oppure, la squadra è avanzata. Insomma, gli attaccanti sono avanzati nel campo, eccetera. In quel caso, come vedete, è l'ausiliare essere. Possono essere usati in funzione di ausiliare per formare il passivo dei soli tempi semplici. Anche i verbi come venire. Quindi, il libro viene letto da tutti. andare con una sfumatura di dovere, di necessità. Quel libro lì va letto da tutti. Finire, restare, rimanere. Esempio, quell'attore finì dimenticato una volta che terminò quel film. Oppure rimanere. Esempio, i miei amici rimasero coinvolti in un incidente. E questi sono i verbi ausiliari, scusate. I verbi servili. Tanto per cominciare, quando parliamo di verbi servili, avrete in mente sicuramente dovere, potere e volere. Che sono i più importanti e più frequenti dei verbi servili. Essi hanno come ausiliare, se accompagnano il verbo essere, richiedono l'ausiliare avere. Per esempio, ha voluto essere presente. Non avresti dovuto essere così duro. Poi, se accompagnano un verbo che usa avere, richiedono l'ausiliare avere. Non ho potuto aiutarlo, abbiamo dovuto mangiare in fretta. Se accompagnano un verbo che usa essere, generalmente, come regola, hanno il verbo essere. Ma si va estendendo sempre di più l'uso di avere. Esempio, sono dovuto partire. Se accompagnano un verbo di forma riflessiva o pronominale, hanno essere, se la particella pronominale li precede. Esempio, non mi sono potuto lavare, si sono dovuti pentire. E hanno avere, se la particella è unita all'infinito. Non ha potuto lavarsi, non ha potuto pentirsi, eccetera, eccetera. Dovere, potere, avere, però, attenzione, oltre a essere usati come verbi servili, possono avere un valore proprio, un significato proprio. E quindi possono essere usati come verbi autonomi. Esempio, ti devo 50 centesimi. In quel caso, dovere non è servile. Oppure, voglio la cioccolata con la panna. In quel caso, volere non è servile, ma ha un significato autonomo. Oppure, non ne posso più. Non ne posso più, qui il verbo potere ha un significato proprio. Sono usati come verbi servili anche altri verbi. Come solere, esempio. Sono solito interrogare dopo un mese di spiegazioni. Oppure, osare, osate, continuare a chiacchierare. Mi intendo spiegare. Osate, in questo caso, è un verbo servile. Preferire. Preferisco mangiare la frutta prima del pasto. Preferire, in questo caso, è servile. Invece, preferisco il cioccolato fondente. Preferire qua non è servile. Ricordate che questi verbi, che sono servili, possono anche essere usati con un significato proprio, autonomo. Oppure, sapere. Sapere nel senso di essere in grado di, per esempio, sai nuotare. Sai recitare. Ricordati però che nella frase hai saputo la notizia, sai nuotare, sai è servile di nuotare, in quel caso. Invece, hai saputo la notizia, sapere, ovviamente, è usato con il significato proprio, autonomo. Poi ancora, osare, preferire, desiderare. Mi sembra di averli detti tutti. Bene. Adesso parliamo degli ultimi verbi di accompagnamento di cui parliamo oggi. Perché stiamo per partire. La foto di stiamo per partire. Dai. Allora. L'ultima categoria di verbi di accompagnamento che studiamo oggi sono i verbi frasiologici. Ecco, qui vedete, per esempio, in questa slide, una serie di verbi frasiologici che sono tutti quanti aspettuali. Cioè, indicano l'aspetto dell'azione. Cioè, in quale modo si sviluppa l'azione. In quale fase di svolgimento siamo. Guardate. Stai per bere o hai iniziato a bere? Ho già iniziato a bere. Oppure, stai bevendo? Ho già bevuto. Oppure, smetti di bere. Quindi, indicano, come vedete, tutti quanti momenti dell'azione. La fase di svolgimento dell'azione. In questo caso si tratta di frasiologico aspettuale. Poi ci sono invece i verbi frasiologici causativi che sono quelli in cui l'azione non è compiuta personalmente dal soggetto ma il soggetto causa l'azione. Ad esempio, il generale fece costruire il ponte. Che sta parlando? Il generale fece costruire il ponte. Evidentemente non è il generale che costruisce lui in prima persona il ponte. Oppure, il professore fa uscire il ragazzo, l'alunno. In quel caso, come vedete, non è il professore che esce ma appunto che permette lo svolgimento dell'azione. Alcuni verbi, quindi fare e lasciare sono i principali verbi causativi. Ce ne sono anche altri però. Cercare, riuscire, sentirsi, trovarsi, vedersi. Esempio. Facciamo degli esempi. Si vide costretto a interrompere la lezione. Si vide costretto. In quel caso, vedere è un verbo frasiologico causativo. Cioè che svolge la stessa funzione di lasciare o di fare. Cerca di impegnarti. Anche in questo caso, cercare di svolgere la funzione di verbo frasiologico.